Mi avete richiesto una recensione di una lente abbastanza vecchia che ho qui in mio possesso e quindi oggi sono qui per parlarvi di questa lente che è la Canon EFS 10 18 mm, un'ottica che quando uscì trovai estremamente divertente e di cui oggi vi parlo con grande affetto. Ciao a tutti amici bentornati sul mio canale, quello di oggi sarà un video spero non troppo lungo perché sono qui a parlarvi di un'ottica verso la quale ho ricevuto una specifica richiesta, è un'ottica su cui non ho tantissimo da dire quindi cercherò di essere più breve possibile. Vi ricordo che se contenuti come questo sono di vostro gradimento potete iscrivervi al canale cliccando il bottone qui sotto, se attivate anche la campanella siete certi di non perdervi le successive notifiche, lasciate anche un like a questo video così mi aiutate a crescere su YouTube. Molto bene ma andiamo a cominciare, ovviamente qui stiamo parlando di una lente economica, l'EFS 10 18 non è certo annoverata tra le lenti di pregio di casa Canon, infatti se noi andiamo a vedere qui abbiamo una baionetta di plastica e la lente in generale restituisce una sensazione abbastanza plasticosa, ciò non significa che non sia costruita bene ma non è una lente tropicalizzata, quindi sicuramente è una lente carina per la lunghezza focale che ci restituisce ma non è esente da difetti. Ora io vi posso dire che questa lente ha anche ricevuto un piccolo trauma perché una volta si è fatta una caduta purtroppo, si è fatta una caduta e ha picchiato sul frontale dell'obiettivo, non ha un graffio e funziona ancora perfettamente, quindi questo semplicemente per dire che sì è plasticosa però non è una lente da sottovalutare quanto a costruzione perché comunque le sue botte se le prende anche. Parliamo un attimo di che cosa ci dà in termini di lunghezza focale, una lente come questa diventa fondamentalmente rapportata su un sensore APS-C diventa un 16-28, una cosa del genere, per cui fondamentalmente questa è l'omologa del 16-35 su una fotocamera full frame, per cui è una lunghezza focale molto bella, una lunghezza focale che io adoro, è la lunghezza focale con cui mi sono trovato meglio in tutta la mia vita e questa lente ha un posto speciale nel mio cuore perché questa è la lente che mi ha fatto capire che questa è la lunghezza focale che mi piace. Usando questa lente io mi sono reso conto che mi piaceva tantissimo scattare a 16 mm, che mi piaceva di più scattare a 16 piuttosto che scattare a 85, perché sì l'85 lo usi per il ritratto ma questa la usi sempre, per cui questa è diventata la mia lente preferita per fare fotografia di viaggio e successivamente per fare fotografia di architettura e lì facendo architettura e paesaggio notturno ho sentito il bisogno di qualcosina di più e quindi in quel momento ho fatto il salto di qualità e sono passato prima al 17 40 perché io avevo il 17 40 che forse all'epoca stavo usando su APS-C e quindi l'ho portato su full frame e a quel punto ho cominciato a usare effettivamente il 17 40 e poi successivamente sono passato al 16 35 con cui mi trovo tuttora molto molto bene. Ora come mai ho sentito il bisogno di passare da questo al 16 35? Beh perché questa è una lente molto molto carina ma con i suoi difetti, ha un aberrazione cromatica abbastanza importante, è abbastanza nitida come lente nel senso che se noi osserviamo il fotogramma da un lato all'altro è una lente che restituisce una nitidezza tutto sommato molto gradevole però non è paragonabile con un 16 35, è una lente che sottoperforma sia dal punto di vista della nitidezza che dal punto di vista della precisione. Questo non vuol dire che non sia una buona ottica, ripeto è una buona ottica, la possiamo utilizzare su APS-C, io l'ho utilizzata su Canon EOS 550D quindi sul mio muletto. Nel momento in cui scattavo con una strumentazione del genere una lente come questa per me andava benissimo, quando ho cominciato a fare fotografie di interni e fotografie di architettura a un livello un pochino più professionale diciamo che ho sentito l'esigenza di proporre ai miei clienti qualcosa di più e questa esigenza ce l'ho ancora oggi quindi difficilmente vado a realizzare uno shooting di fotografie di interni e di architettura con questa lente perché ho una strumentazione più progredita. Ovviamente se non ce l'avessi tornerei sicuramente a utilizzare quest'ottica ma vista la mia esperienza mi sentirei sempre in difetto dal punto di vista della nitidezza, dal punto di vista della precisione, dal punto di vista dell'aberrazione cromatica sentirei sempre di essere un passettino indietro. Questo che cosa significa? Per chi è questa lente? Secondo me questa è una lente per chi comincia perché è insito nella sua fascia di prezzo, questa è una lente molto economica quindi secondo me questa è un'ottica fantastica se siamo indecisi, se abbiamo appena cominciato e magari non abbiamo investito subito una fracca di soldi per comprarci una full frame questa è un'ottica eccezionale per cercare di capire se questa è una lunghezza focale che ci piace con cui vogliamo lavorare. Per questo è veramente fantastica. Non credo che sia un'ottica da continuare a usare sul lungo periodo ecco, nel senso che attenzione può essere un'ottica molto divertente da usare, può essere un'ottica con cui facciamo fotografia di viaggio, può essere una lente che ci portiamo di scorta, può essere una lente che usiamo per divertimento nostro. Secondo me non è una lente con cui vogliamo portare avanti un discorso di lavoro a livello professionale perché appunto ci sono lenti molto migliori e con una lente come questa stiamo sempre un po' sottoperformando, quindi questa è la mia impressione. Ve lo dico sia dal punto di vista della qualità d'immagine sia dal punto di vista dell'apertura perché attenzione qui stiamo parlando di un'ottica buia, qui stiamo parlando di un f 4.5 a 10 mm e 5.6 nel momento in cui andiamo a zoomare a 18 mm. È un'ottica buia ragazzi, è veramente una tomba, un lentino come questo vedete, ha un foro che è piccolo. Questa è un'ottica veramente molto buia e si fa fatica, si fa fatica perché comunque una lente come questa su un sensore APS-C quindi abbiamo il doppio handicap. Abbiamo sia un sensore che performa meno bene ad altiso, sia una lente che ci costringe a usare gli altiso a meno di non stare lavorando su treppiede. Però immagino che nella maggior parte dei casi uno non vuole lavorare sempre su treppiede, è anche bello scattare a mano libera ogni tanto, soprattutto con un'ottica come questa che comunque è divertente, piccolina, sbarazzina, dovrebbe essere un piacere scattare a mano libera con un'ottica come questa, ma siamo molto penalizzati. Quindi di giorno nessun problema, appena c'è poca luce facciamo una gran fatica con un'ottica come questa. Ha il vantaggio di essere stabilizzata, quindi perlomeno da quel punto di vista il fatto che sia stabilizzata e il fatto comunque che sia un angolo di campo molto ampio ci permette di allungare i tempi di scatto. In certi casi ce la capiamo, in certi casi no, perché comunque anche se noi siamo fermi magari l'architettura è ferma, però se ci sono delle persone, se stiamo facendo un'altra cosa, persone, animali, piuttosto che avremo sempre un micromosso, anche se noi siamo molto fermi di mano, quindi non ti risolve il problema. Ulteriore problema che questa lente presenta è che le immagini che io oggi vi faccio vedere, che sono relative a quest'ottica, fanno riferimento a quest'ottica su un sensore da 18 megapixel. Qualcuno di recente ha avuto anche un po' da ridire sulle mie risposte ad alcune domande perché sosteneva che quest'ottica è l'ideale da montare su Canon EOS R7. Ragazzi, voi potete montare quest'ottica su Canon EOS R7? Cioè, per carità, padronissimi, avete la camera, avete l'adattatore, avete questa lente, la montate, funziona, va benissimo. Il punto è che se quest'ottica a 18 megapixel presentava degli evidenti problemi su un sensore come quello della R7 che ha molti megapixel in più, non dico il doppio, ma siamo vicini. Questi problemi saranno accentuati, per cui quello che dico io è, la potete usare, potete prenderla per cominciare, potete prenderla perché siete disperati, perché su R7 non ci sono altri grandangoli efficaci come questo al momento, certo, la si può prendere in quest'ottica, però è un peccato. Abbiamo una fotocamera con una risoluzione molto molto importante, perché è una bella risoluzione quella di R7, soprattutto per una PSC, è quasi troppa. Io sono molto contento, sto utilizzando R7 in questo momento per riprendermi, sono molto contento della risoluzione di questa fotocamera, però non gli vado a montare una lente come questa, perché una risoluzione come quella, con un'ottica di questo tipo, mostra molto il fianco, secondo me. L'aberrazione cromatica si vede ancora di più, ci sono un sacco di cose che vengono fuori ancora più prepotentemente. C'è tutta una serie di fattori legati proprio alla costruzione intrinseca di quest'ottica che non performa come le ottiche di serie L o come altre ottiche più costose, ma lo sapete da soli, cioè nel senso questa qui è una lente che costava 300 euro quando è uscita, adesso non so esattamente cosa costi, costerà un pochino di meno, però un'ottica che costa 300 euro, non ci possiamo aspettare le prestazioni uguali a un'ottica che costa 1.6, lo sapete anche voi che non è la stessa cosa, quindi nel momento in cui prendete una lente come questa, lo sapete che state pagando di meno e che avrete di meno, perché purtroppo quello che paghi è quello che ti porti a casa. Chiudo il video facendovi vedere tre immagini, mi dispiace che non ho esattamente la stessa angolazione, ma come capirete sono foto fatte in momenti diversi, non sono andato lì a fare la foto apposta, quindi vi faccio vedere la foto quantomeno dello stesso soggetto, più o meno dalla stessa distanza e più o meno con le stesse condizioni e anche più o meno con le stesse impostazioni, perché queste tre foto sono state scattate, tutte e tre con tre piede, tutte e tre con un diaframma abbastanza chiuso, sarò stato tra f8 e f11 per tutte quante le foto e sicuramente stavo scattando a ISO 100. Vedete che nonostante le condizioni siano fondamentalmente le stesse, c'è una bella differenza tra la fotografia scattata con quest'ottica, che è la prima che vi faccio vedere, e la fotografia scattata con il 1740, che è la seconda che vi faccio vedere. Inoltre ho qui anche una chicca perché vi faccio vedere la stessa identica foto. Sì, sono una persona noiosa, mi piace rifare le stesse cose nel corso degli anni. Vi faccio vedere la stessa identica foto scattata con Canon EOS R e con il 1435. Ovviamente la differenza tra la prima e la seconda c'è, ma non è tantissima. A differenza tra la seconda e la terza c'è, ma non è tantissima. A differenza tra la prima e la terza è tanta. Adesso si vede proprio. Capite, vi rendete conto che, ok, c'è di mezzo anche il sensore, che è tutt'altra cosa. Il sensore di Canon EOS R ovviamente distrugge il sensore della 550D. Però qui non stiamo facendo lavorare tanto il sensore, perché siamo comunque nelle stesse condizioni e sono condizioni ottimali per tutte e tre le camere, perché siamo padroni del tempo in quanto siamo su tre piede. Per cui, fondamentalmente, il sensore lasciamolo un attimo perdere. Stiamo vedendo solo la performance della lente. Ovviamente la performance di questa lente è buona, ci consente di ottenere il risultato, ci consente di lavorare con quella lunghezza focale, però ci lascia sempre lì con ho potuto fare la foto, ho potuto fare lo scatto perché mi dai quell'angolo di campo, però non mi dai la soddisfazione di averla catturata come volevo io. Le stelline degli spotlight non sono come le volevo io. La precisione su tutto il fotogramma non è come la volevo io. Ci sono una serie di cose che mi lasciano insoddisfatto e io non voglio essere insoddisfatto quando scatto. Per questo motivo sono passato da questa al 16-35 e la sto utilizzando molto poco adesso quest'ottica. La tengo perché sulla Canon EOS 550D ogni tanto ancora la monto questa lente per fare certe cose, la porto magari come terza camera, ogni tanto ancora la uso. Il punto è che non sarà mai più la mia prima ottica per fare un servizio fotografico. Questa lente sarà sempre la mia terza ottica, sarà un'ottica di sicurezza. Ovviamente vi dico questo perché la mia strumentazione è progredita, i miei clienti sono progrediti e quindi io in questo momento non mi sento di usare un'ottica come questa per fare i miei lavori. Non significa come già detto che non sia un'ottica valida. La potete prendere secondo me per cominciare, per capire se questa lunghezza focale è quella che vi piace, per capire se è quella giusta per voi. Sicuramente la potete prendere per cominciare. Secondo me non è un'ottica che tenete per tutta la vita, non è un'ottica con cui andate a lavorare sul lungo periodo, perché se lavorate in questo campo sul lungo periodo secondo me prima o poi vorrete qualcosa di più performante dal punto di vista della tropicalizzazione, dal punto di vista della resa, dell'apertura, di tutto quanto. Secondo me prima o poi vi verrà spontaneo di sentirvela un po' stretta, vi verrà spontaneo di volere qualcosina di più. Però appunto può anche darsi che questa lunghezza focale non vi piaccia per niente, per cui è molto meglio scoprirlo su un'ottica come questa piuttosto che su un'ottica più costosa, anche se c'è un ulteriore contro quando si acquista un'ottica di questo tipo. Se voi prendete una lente di serie L, la pagate facciamo finta a 1500 euro, nel momento in cui la volete rivendere, secondo me rivenderla a 1200 ce la fate. Un'ottica come questa la pagate 300, sarà difficile venderla più di 100 euro dopo, quindi c'è anche questo contro ulteriore, è difficile che vi comprino un lentino come questo usato. Un altro vantaggio di cui non ho parlato ancora invece è che comunque è molto leggera, cioè questa qui letteralmente ve la tenete al collo e non la sentite, vi fate l'intera giornata con questa al collo senza nemmeno accorgervi che c'è, è veramente leggerissima, è una piuma, per cui ha i suoi pro e i suoi contro. Io non me la sento di sconsigliarvela, me la sento di dire che su una fotocamera moderna, su una mirrorless, soprattutto sul Canon EOS R7, secondo me è veramente un peccato andare a usare una lente come questa perché sottoperforma, non ci sono cavoli, su un sensore con questa risoluzione una lente come questa che non è pensata per una risoluzione come questa sottoperforma, quantomeno ha la tecnologia STM, quindi comunque sulla messa a fuoco non dovrebbe esserci nessunissimo problema col suo adattatore, non dovrebbe esserci nessun problema di connettività o di prestazioni sulla messa a fuoco, dovrebbe andare benissimo. Ripeto, è comunque un peccato perché andare a usare una risoluzione importante come quella di Canon EOS R7 con una lente come questa è un peccato, secondo me solleva molti dubbi e ci costringerà anche a lavorare con gli ISO più alti che è una cosa che secondo me non vogliamo. A questo punto però vi chiedo, ditemi voi che cosa ne pensate di questa lente, ditemi se ho dimenticato qualcosa, ditemi se c'è qualche altro aspetto su cui volevate delucidazioni, ditemi se ce l'avete, se vi trovate bene, se l'avete mai provata, se state pensando di acquistarla oppure se non riuscite a venderla, ci vediamo nei commenti. Vi ricordo che potete supportare il canale semplicemente iscrivendovi, attivando la campanella oppure con un like a questo video o meglio ancora entrambe le cose, me ne accorgo se fate entrambe le cose. Signori, grazie di aver trascorso un po' del vostro tempo con me e io vi do appuntamento al prossimo video.